Il Comune di Teramo ha dato il via libera al progetto definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione del nucleo abitato storico di Colle Atterrato Alto. Un intervento da circa 400 mila euro che riguarderà in particolare la pavimentazione, gli arredi e la sicurezza stradale del cuore antico del popoloso quartiere periferico. È una richiesta che è venuta proprio dal territorio, dai cittadini, di quel quartiere, di quel borgo bellissimo che deve essere riqualificato. Ovviamente il progetto è un progetto molto ampio che ha dei costi importanti. In questa prima fase abbiamo fatto con una variazione in bilancio, abbiamo messo già 200 mila euro che sarà il primo lotto e riguarderà praticamente la parte più antica del borgo. Una riqualificazione importante, come ho detto, è venuta con la condivisione del territorio, con la partecipazione dei cittadini. Così come è stata richiesta, è stato tramutato in un progetto definitivo ovviamente che è stato approvato in giunta e nei prossimi giorni sarà fatto l'affidamento ad una ditta per iniziare i lavori. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione nell'area del nucleo storico del tratto in cui insistono le case a schiera in via Antonio di Bernardo. Nel tratto tra la fontana e il piazzale del vecchio Muraglione in via Indro Montanelli, nel tratto dell'incrocio con via Caporale, oltre a una serie di lavori relativi all'adeguamento dei sottoservizi. Come da progetto inoltre saranno sistemate le ringhiere del percorso pedonale che conduce alla fermata del bus e adeguati e riqualificati sia l'accesso pedonale all'ex scuola e l'area della fontana, sia l'accesso alla chiesa. Le tempistiche non saranno lunghe perché parliamo di lavori abbastanza importanti sotto il profilo della tipologia di lavoro perché ci sarà una pavimentazione nuova di tutto il borgo con porfidi, con materiali importanti scelti anche in questo caso con la condivisione del territorio, l'illuminazione, i sottoservizi e quant'altro. Come tempissima non sarà molto lunga, però siamo fiduciosi che nel giro, speriamo anche per Natale, di poter vedere i lavori conclusi.